story time evoluzione radio ben ritrovato popolo di story time io sono giulia dagli studi di bologna e oggi sono in compagnia di luca e matteo a cui do il mio benvenuto ciao ragazzi ciao grazie ciao grazie per l'invito come va bene bene dai un po emozionati ma non preoccupatevi sarà veramente una chiacchierata tra amici voi siete qua per raccontarci per raccontarci appunto la vostra storia siete il fondatore e responsabile commerciale di gl sport corretto esatto di che cosa si tratta ma allora fondamentalmente già le sport è il nostro brand sportivo noi nasciamo come officina ortopedica quindi realizziamo prodotti realizzati su misura per persone con delle problematiche fondamentalmente io sono tecnico ortopedico di terza generazione l'azienda aveva fondata mio nonno nel 66 bravo allora che l'hai portata avanti e ci stiamo provando a fare anche a differenziarci per cui dal 2009 abbiamo fondato il brand gl sport col quale praticamente abbiamo portato tutte le nostre conoscenze delle dei prodotti realizzati su misura o comunque con tecnologie particolari anche legate al mondo dello sportivo ecco l'idea nasce così chiaro ma è quindi importantissimo per un professionista anche per uno sportivo avere appunto un'attrezzatura idonea alla pratica sportiva immagino assolutamente nel senso che noi facciamo fondamentalmente protezioni quindi significa prevalentemente per esempio i parastinchi e noi li realizziamo solo in fibra di carbonio quindi un materiale ad altissima rigidità ed altissima resistenza e poi facciamo anche tutta una serie di protezioni sportive come per esempio le maschere realizzate su misura per chi per esempio ha avuto degli infortuni quindi parliamo di prodotti molto tecnici e molto specifici attraverso i quali gli atleti possono giocare sereni diciamo mi viene in mente che so di bala diciamo così il livello di giocatori è quello ecco nel senso che negli anni abbiamo fornito tantissimi professionisti di quel livello lì proprio anche sì insomma l'uso della tecnologia è sicuramente basilare è una tecnologia tra l'altro sempre più avanzata all'utilizzo di carbonio sono tutti materiali ultra leggeri giusto però molto performanti esatto il nostro mestiere nasce lavorando tutto a mano con il calco fatto col gesso con le mani come faceva mio nonno nel 70 noi stiamo portando tutta la parte della digitalizzazione in questo settore per cui ciò che si faceva con le mani con il gesso si fa con gli scanner 3d esatto si fa con tutta una serie di tecnologie sempre più in costante evoluzione vi aggiornate costantemente costantemente direi sì allora invece matteo raccontami un po anche il tuo ruolo all'interno dell'azienda tu sei responsabile commerciale giusto esatto io in pratica sono arrivato a dargli una mano circa due o tre anni fa e appunto grazie a questa questione che sta portando avanti luca di partire da un'azienda ortopedica diciamo e allargarla al mondo dello sport io fondamentalmente aiuto le persone che si rivolgono a noi a innanzitutto capire bene come funzionano i passaggi produttivi e poi spesso mi occupo anche della parte grafica personalizzazione perché comunque in facendo prodotti su misura ci dedichiamo anche molto ad ascoltare le richieste del cliente che spesso non non si accontenta solo della pura protezione o vuole anche un prodotto che sia bello da indossare sia che siano per le gambe che sia per il viso e quindi anche li seguo in tutta questa fase qua e una volta superata diciamo la parte introduttiva col cliente capito bene le sue necessità le passo agli esperti del settore che assolutamente svolgono il compito di prima necessità che è quello di proteggere appunto chi si rivolge a noi chiaro ma domanda vi conoscevate già da prima come si è entrato in azienda casualmente come è stato questo incontro diciamo io non li conoscevo semplicemente da da linkedin proprio classico ricerca ho visto quest'offerta di lavoro mi sembrava molto interessante mi sono buttato ma ho letto da qualche parte che c'è una personalizzazione anche un personalizzatore online esiste una cosa che avete inventato voi praticamente come funziona sono curiosa raccontate esiste questo personalizzatore e ci si accede direttamente tramite il nostro sito perché noi praticamente ci rivolgiamo a un'ampia gamma di clienti che tendenzialmente non arriva mai in negozio da noi a noi e abbiamo campagne attive su tutta italia e il grosso dei clienti li facciamo totalmente da remoto uno il personalizzatore funziona sui parastinchi per dare sfogo proprio alla creatività di tutti e mettersi quello che vuole sul prodotto e tendenzialmente c'è ci sono due tipi di clienti chi è perfettamente in grado di essere autonomo e crearsi da soli e quindi esiste questo personalizzatore che praticamente è un layout grafico che tu completi secondo i tuoi gusti e poi procedi direttamente all'ordine senza passare da intermediari mentre invece ovviamente c'è anche chi è meno capace di essere autonomo e si rivolge direttamente a me che sviluppo anche la parte grafica mi dice un po le mi spiega un po le sue necessità e io gli credo direttamente il layout finale quindi in questo modo utilizziamo un intermediario tra il cliente e il prodotto finale chiaro ma è giusto per capire è puramente una cosa estetica la personalizzazione oppure anche una cosa funzionale perché mi viene in mente a me a volte è capitato di comprare magari per il mio figlio delle scarpe che si potevano appunto personalizzare con si potevano scegliere i colori il materiale oppure scrivere il nome insomma delle scritte stiamo parlando di questa cosa qua o di altre cose è proprio questa la personalizzazione che intendete anche voi diciamo così noi abbiamo due livelli di personalizzazione nel senso che abbiamo tutta una serie declinato una serie di prodotti standard attraverso il quale la funzionalità è quella quindi sono estremamente protettivi eccetera eccetera e sui quali viene applicata la customizzazione grafica ok 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 la sua parte è anche quella assolutamente è fondamentale oppure in altri casi su utenti per esempio che hanno avuto infortuni particolari la personalizzazione parliamo proprio di forma personalizzata un prodotto dedicato al singolo utente ecco chiaro chiaro però è bella anche questa cosa che si può personalizzare a livello estetico è fichissima secondo me bravi ok quindi che genere di sport riguardano tutti questi articoli di cui vi occupate allora diciamo che lo tendenzialmente sui prodotti di parastinchi in carbonio in particolare sono fondamentalmente calcio ok quindi il nostro sport quando invece facciamo le maschere su misura quindi a protezione di un infortunio avuto al volto ci è capitato di farli veramente penso dal polo alla pallavolo al basket al calcio al rugby al karate ok lo sportivo in genere sci palla nuoto lo sportivo in genere che non vuol farsi male avendo un infortunio al volto si approccia a questo tipo di situazione immagino non chi pratica box ed mma che quelli invece non possono secondo me mi è capitato per l'allenamento ok non potevano usarlo durante l'incontro ma in allenamento abbiamo fatto anche box diciamo mma non ci siamo ancora arrivati per non peggiorare la situazione durante poi all'incontro ci arrivi già macellato vai capa o subito volete aggiungere qualcosa prima di dare anche i vostri contatti a chi ci sta ascoltando volete dire qualcosa in particolare allora io aggiungevo semplicemente una cosa nel senso che noi vogliamo cercare di essere sempre più raggiungibili da tutti per cui abbiamo anche esteso il nostro lavoro a tutta una serie di officine ortopediche in italia che fanno partnership con noi per cui anche un utente per esempio non so in sicilia o in calabria può rivolgersi all'officina partner che effettua la scansione del volto del ragazzo noi centralmente realizziamo la maschera la mandiamo all'officina partner da poter fare quindi questo è un po l'estensione della tecnologia che consente di fare cose che fino a vent'anni fatti direi che erano pressoché impensabili e in quante regioni siete presenti direi matte tendenzialmente direi 19 su 20 in italia isole tutte e due ottimo bene bene ve lo chiedo perché io sono sarda quindi era curiosa allora il vostro sito internet è www.glsport.eu voi avete sede principale insomma in piazza repubblica 12 a fidenza provincia di parma su facebook siete sempre glsport e anche su instagram ma è gl underscore sport underscore official giusto esatto per chiunque avesse bisogno di informazioni vi può scrivere a info chioccio la glsport.eu e qua stanno passando anche dei numeri di telefono che li forniamo 3286161584 e siete presenti su linkedin visto che il nostro amico matteo ha trovato un lavoro così vabbè comunque siete anche su linkedin lsport e su youtube che cosa ci sono dei tutorial oppure fate vedere come vengono create cioè dei tutorial su come utilizzare le cose o invece come viene proprio creata che sono il parasfinco la maschera direi che andiamo un po in entrambe le direzioni nel senso che è un canale fra l'altro che stiamo cercando di implementare bene di recente dove abbiamo messo prevalentemente al momento contenuti tecnici quindi dove si capisce esattamente come funziona quando un utente riceve l'oggetto diciamo ecco adesso vorremmo cercare di portarci anche un po più su un discorso relativamente modaiolo passami il termine sì sì ma fate bene secondo me perché così riuscite anche a diciamo attrarre anche i giovanissimi esatto 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 quindi è in evoluzione anche quello ecco bravi bravi complimenti io vi ringrazio è stato un piacere fare questa chiacchierata insieme a voi e se volete tornare a trovarci noi siamo qua siete benvenuti grazie a te davvero dell'invito e della bellissima esperienza grazie grazie mille a presto con una nuova storia ciao story time evoluzione radio grazie a te davvero